Civil Week 2024 dal Parco Trotter in compagnia di Ciprian. Buongiorno. Di cosa fa parte e cosa avete organizzato per questa Civil Week? Come comunità romena noi partecipiamo tre associazioni, Assess, Arca e collaboriamo anche con amici del Parco Trotter. Oltre al banchetto abbiamo preparato un allestimento fotografico nel cortile della Chiesetta dal titolo un po' ambizioso Riflessioni dove la parola è composta da riflessi e ioni mutuato dalla chimica per sottolineare l'individualità del cittadino, l'uguaglianza dei diritti ma anche la carica che ciascuno di noi può dare alla società, che può essere una carica positiva e quindi arricchire il contesto, negativa a volte perché non ce la si fa. Ed è la prima volta che partecipate alla Civil Week? No, è la seconda volta. L'anno scorso sempre insieme a Arca e Assess abbiamo preparato un laboratorio fotografico dal titolo anche quello ambizioso Tu sei io, dove si lavorava sul riconoscimento dell'identità del soggetto e la mostra è stata preparata sempre all'interno della chiesetta. Oggi ci saranno anche i balli romeni con dei nostri amici dell'associazione Nonché Scuola di Ballo Batra di Torino che si esibiranno qui nel piazzale. Anche l'anno scorso c'erano anche loro che hanno animato molto la festa. Allora speriamo in tanta carica positiva e buona Civil Week! Speriamo di essere ioni positivi!